Afidi all'attacco delle nostre piante Si moltiplicano come se non ci fosse un domani Una femmina produce da 3 a 10 piccoli afidi al giorno Ecco uno dei metodi per prevenirli gli insetti antagonisti Questi ce li ha mandati per fare l'albero.it Possiamo liberare larve di coccinella che praticamente se li sbrana In questa scatolina ce n'erano un centinaio che ho liberato nelle bietole e nei carciofi Oppure più subdolamente liberare delle vespe cacciatrici di afidi come queste, gli afidius con le mani Depongono l'uovo nell'afide che praticamente diventa una mummia Poi l'uovo si schiude, esce una nuova vespa che caccia nuovi afidi Insomma, lotta senza quartiere Ce la faremo contro gli afidi